Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti al TG Pomeriggio non posso chiamarlo TG Giorno perché ho fatto tardissimo tra l'altro TG condito anche da un grande mal di testa ma non poteva essere altrimenti praticamente è come se mi sento come se non avessi dormito affatto ieri il video alle due di notte stamattina la sveglia non risparmia nessuno e quindi eccoci qua con il mal di testa però è una puntata diciamo positiva perché perché ho avuto quelle risposte che aspettavo ieri sul famoso test di Fiorano della F2024 e abbiamo visto pure come la cartina tornasole della Ferrari non è messa male non è messa male e infine abbiamo l'anticipazione che sicuramente già avrete visto con la fuga di fotografie di immagini dalla sala di presentazione della nuova Red Bull la 2024 sì l'avevamo già vista in pista però come vedete la presentazione è fissata se non erro per le 20 e 30 di questa sera però però qualche foto già gira anche se con tanto di lavoro come si chiama al Photoshop quindi perché qui per esempio c'è tanto nero è come se fosse stato creato apposta non mi sembra un gioco di luci naturale qui è proprio in questa zona è stata oscurata secondo me la fotografia poi non sappiamo cosa ci sia di reale e cosa di non reale comunque ci limiteremo a commentare quello che vediamo poi daremo un'occhiatina pure a una parte piccolina della McLaren diciamo puntata ricca di contenuti quindi che cosa facciamo adesso lanciamo la sigla e poi partiamo con il racconto di tutto quello che è successo in questa giornata di motosport ma soprattutto con il racconto di quello che è successo ieri perché mancava un pezzo e oggi questo pezzo ce lo abbiamo sigla bene bene eccoci qua allora ricordate nella puntata di stanotte vi avevo detto ragazzi avrei voluto più risposte per quello che è stato il test fatto dalla Ferrari però purtroppo alle due di notte queste risposte non ce le ho ce le abbiamo oggi che sono le 18 e 40 del pomeriggio e sono tutte risposte che mi lasciano il sorriso in bocca allora in sintesi il test ieri della Ferrari è andato bene però questo vuol dire tutto e non vuol dire niente perché dal punto di vista positivo abbiamo avuto una vettura che ha girato senza nessun intoppo provando tantissimi setup soprattutto a livello di altezza da terra lasciate perdere il fatto dell'alettone posteriore il cofano con la pinna più alta le branchie che andavano venivano e via discorrendo perché ne sono state provate diverse soluzioni per studiare anche l'evacuazione del calore in coda in base alle aperture delle branchie sul cofano però al di là di queste cose il quarto elemento il flap il nolder tutto quello che volete voi le prove più importanti sono quelle che riguardano l'altezza da terra della vettura ed il comportamento della vettura sul cordolo abbiamo detto ieri sui cordoli sui tanti cordoli che i piloti hanno preso durante le prove di ieri io vi invito a fare una cosa guardate un po i video della prova di ieri poi andatevi a cercare quelli della sf 23 dello scorso anno guardate un po come in questa occasione i due piloti vanno tanto a cordolo è come se ci andassero appositamente come se vanno a cercare la vettura che sale sul cordolo e poi scende di colpo per vederne il comportamento e il comportamento è stato quello che si aspettavano perché perlomeno a fiorano c'è stata correlazione tra quello che i piloti hanno guidato al simulatore e quello che i piloti hanno guidato ieri in pista già questa è la prima cosa positiva la prendiamo e la mettiamo da parte ma non è l'unica perché per esempio i tanti presenti avranno notato due cose uno la faccia di leclerc quando si è concesso ai pochi tifosi che ha visto pochi in realtà perché pochi perché c'erano tantissimi e comunque la faccia di leclerc era sorridente c'erano tantissimi assiepati ovunque ieri a fiorano si è visto anche una si sono visto una coppia di tedeschi uno che sembrava la sos il sosia di badoer di luca badoer e l'altro con un berretto da cowboy enorme con il cavallino rampante molto pittoreschi ma al di là di questo ragazzi leclerc era sereno la cartina tornasole della ferrari ieri era serena senza grilli per la testa perché perché per quanto sia andata bene la ferrari ieri rispetto alla sf 23 e credetemi è andata veramente bene non si sa quanto hanno migliorato gli altri e questo noi lo potremmo sapere più o meno quasi nei prossimi test dove saranno tutti in bahrain perché ho detto più o meno quasi perché molti si andranno a nascondere probabilmente girano con tanta benzina e io mi aspetto e spero che anche la ferrari giri con tanta 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 benzina a bordo del resto l'anno scorso la prestazione sul giro singolo non mancava quello che mancava era la costanza di rendimento con tanta benzina a bordo e il passo nello stint diluito nello stint a un certo punto la ferrari degradava le gomme quindi non aveva più passo questo passo ieri si è visto e me ne sono testimoni i tanti che i tanti tifosi che stavano col cronometro in mano si sentono anche nel video che ho pubblicato e vedevano che i tempi saltavano fuori con una certa costanza dall'inizio alla fine dello stinte e anche il consumo degli pneumatici non è stato affatto male quindi mettiamoci allora da un lato una vettura che è sembrata bella equilibrata senza scodate eccessive senza ricadute dal cordolo nervose l'abbiamo vista prendere i cordoli in lungo e in largo per tutta la pista però la ferrari saliva e scendeva bene solo in un'occasione ho visto un probabilmente una taratura all'anteriore un filo più rigida ma poi è stata subito abbandonata quindi alla fine dei conti possiamo dire che i risultati che vengono fuori da ieri sono positivi anche perché ripeto c'è riscontro con il simulatore però risottolineo ancora una volta questo vuol dire tutto e non vuol dire niente perché se da un lato abbiamo una f 2024 migliore scusate la chiamo così fatevi una ragione migliore delle sf 23 dall'altro non sappiamo quanto gli altri sono migliorati rispetto alla propria vettura dell'anno prima quindi sì il primo passo è fatto una vettura migliore però adesso bisogna vedere appunto quanto grande hanno fatto il passo gli avversari quindi non esultiamo rimaniamo calmi rimaniamo come dire equilibrati e aspettiamo di vedere i primi test magari con un filo di serenità in più perché comunque è venuta fuori una vettura che non era difficile migliore di quella dell'anno scorso punto però come riferimento appunto abbiamo la vettura di fine anno scorso non quella di inizio anno perché la vettura di fine anno scorso era una vettura grazie alle tante modifiche fatte un po più equilibrata un po più facile da guidare questa è parecchio più facile da guidare a detta di entrambi i piloti direi che possiamo chiudere così con il test di ieri poi se volete vedere come ha girato ho pubblicato un video dove si si vedono diversi giri diversi passaggi sui cordoli che ragazzi sono troppo frequenti sono stati cercati apposta proprio per studiare a fondo il comportamento della vettura su una pista che è conosciuta praticamente come le proprie tasche quindi primo passo ci siamo vediamo i passi successivi come saranno allora rb20 eccola qua ora sapete che non mi piace commentare i rendering e questo potrebbe essere uno di quelli perché si scatta la foto poi magari si fa qualche modifica e si fa uscire avete visto per esempio il caso della mercedes che era spuntata addirittura con un braccetto in più così tanto per gradire poi avete visto quanto era differente l'anteriore presentata nel rendering da quella che poi abbiamo visto in pista quindi per questa foto saltano fuori solo le tre modifiche più evidenti quelle più chiare quelle più sotto luce allora andiamo a guardare quali sono il muso in primis si va ad appoggiare al primo elemento e sporge anche un bel po tipo becco di papera però non sappiamo quanto sia affusolato perché non abbiamo mai visto la vettura dal frontale neanche nei test quindi neanche in quelle poche immagini scattate ed è filmate da lontano che abbiamo visto del test fatto dalla red bull a sylveston poi altra cosa che si nota qui si nota in maniera un po più chiara abbiamo il labbro superiore della pancia che sembra più avanti sembra più avanti perché non vediamo quello inferiore quindi di sicuro sarà più avanti perché c'è la striscia rossa però non sappiamo di quanto ecco sembra più avanti di quello inferiore ora prima di lanciarci in voli pindarici aspettiamo un qualcosa di più visibile e poi la modifica più grossa quella che probabilmente si farà sentire di più in termini prestazionali ovvero il cofano motore che sembra ispirato a quello della mercedes dell'anno scorso però molto discendente nella parte finale forse più della mercedes dell'anno scorso poi per il resto non mi sento di commentare nulla se non la presenza di christian horner scusate ma l'assenza di elmuth marco quindi anche l'assenza di elmuth marco in questa foto quindi un pochino strano perché queste sono foto foto di rito che si fanno prima della presentazione quindi del video ufficiale che poi verrà lanciato e che servono poi a essere lanciate subito dopo per dare qualcosa ai giornalisti tutto qui passiamo a un'altra vettura presentata ieri la mclaren e qui sono stati praticamente epici perché l'unica cosa nuova che possiamo commentare con certezza perché ripeto io le foto dei rendering li voglio lasciare stare dove non si vede il fondo il marciapiede non siano sicuri delle ali non siano sicuri di niente quindi lasciamoli da parte che tanto c'è tempo per commentare le vetture comunque mclaren eccola qui prima grande modifica che abbiamo visto sul che è anche l'unica è anche l'unica questa ala a modi mercedes ricordate che con il con anti intrusione la mercedes ci aveva ricavato un ala ora non so se loro ce l'hanno qua sotto però comunque l'ala c'è vedete ve l'ho marcata gialla e fa da supporto al secondo supportino dello specchiettore retrovisore perché il primo è a filo con la monoposto quindi un separatore di flussi lo vedremo meglio non appena avremo le immagini più care più chiare non può essere che questo anche perché non credo che qui ci sia incidenza da parte dell'ala anche se in base a come sono messe qui messo questa questo stickers questo adesivo sembrerebbe forse leggermente inclinata in punta ma ripeto è una cosa che va vista con delle foto un po più chiare quindi mi dispiace ragazzi speravo di avere più immagini ma non è arrivato nulla è un contatto di un mio contatto praticamente mi ha detto che è stato braccato quando ha tentato di andare dalla parte di circuito che vi ho mostrato ieri vediamo se ce l'ho ancora qua sì ecco da questa parte della pista questa in verde dove girava la mercedes a quella national questa in celestino dove girava la mclari ecco da qui a qui c'è parecchio e praticamente non abbiamo nessuno a immagine non abbiamo immagini della mcl 38 mcl 38 che ieri ha debuttato con norris con i due piloti e piastri per quel che riguarda appunto i primi chilometri che tutti fanno tutto qua vi faccio vedere però qualche altra cosa perché oggi ha girato a misano la qui dobbiamo fare una pausa di riflessione perché scappa qualche nome passato la v carb ecco forse si chiama così il nome ufficiale dovrebbe essere questo quindi la vediamo questa volta senza senza veli senza rendering senza nulla e non si discosta da perlomeno nella vista laterale tanto da ciò che abbiamo visto grande sottosquadro molto simile alla red bull praticamente una fotocopia in buona parte della red bull dell'anno scorso vedremo quanto avrà della red bull di quest'anno poi vi faccio vedere anche i nuovi colori quelli definitivi delle sotta fraschini e questa cosa qui l'avevamo lasciato un po indietro visto tutto il fiume di notizie che ci sono state in questi giorni e infine selezione nazionale piloti presente ieri a maranello a fiorano a guardare i test con il nostro matteo che vedete qui indicato dalla manina matteo magnanelli e un grazie di cuore a quell'angelo con gli occhiali un saluto affettuoso ai genitori di matteo ma grazie al nostro caro amico che come dire anche questa volta si è fatto in quattro per noi grazie ancora una volta bene prima di mostrarvi i commenti voglio mandare un grande 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 e credetemi ne ha bisogno più che mai perché a volte la vita ti riserva delle cose veramente assurde comunque ricordate che spesso vi ho parlato di una persona tanto cara milla che commenta da grandissima esperta perché è questo che è milla di grazia ecco le vorrei mandare un grosso grosso abbraccio sono sicuro che ne ha tanto bisogno e sono altrettanto sicuro che questo che sto dicendo le farà bene perché perché attraverso un momento particolare spero come dire di attraverso questo messaggio di affetto verso di lei spero che mi seguirete in tanti anche nei commenti che possa ricevere una piccola carezza nel momento più duro di tutta la sua vita tutto qua andiamo ai commenti ragazzi quelli in pole position del video di ieri notte abbiamo pietro dori guzzi poll più notturna di sempre poi abbiamo mattia alessio longo giro la modanna jack e poi pietro dori guzzi che mi ridice ma che ci fai a sta ora poi abbiamo quelli di tendenza sempre nel video di ieri a proposito è uscito un nuovo video di yellow skid andatevelo a guardare anche lì si fanno punti abbiamo antonello dalle hawai poi paolo 72 50 jack 35 80 e sempre lui poi sotto bene 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 abbiamo terminato questa puntata poi vedremo questa sera abbiamo mezza idea di fare qualcosa vediamo se salta fuori una puntatina interessante e oppure il solito tg notte che comunque cercherò come dire di arricchire con tutto ciò che salta fuori da qui a stanotte tra cui la presentazione della red bull anche se in buona parte l'abbiamo vista in queste foto dove si non si vede nulla praticamente è nulla siamo arrivati alla fine vi ringrazio di avermi seguito sin qui vi invito a lasciare un commento un like ad attivare la campanellina iscrivervi se non l'avete ancora fatto e vi mando un grosso bacio a proposito oggi è partita f1 fantasy quindi vi chiedo di avere un attimo di pazienza perché spero al massimo entro domani di farvi vedere un video perché vi ho riservato una sorpresa possiamo veramente divertirci tanto anche così ragazzi un grosso bacio un abbraccio ciao